In the movie, allora Ennio è stato torturato per 24 ore da Wender e da Paolo Noyes che era lì che gli passava numeri e robe, cazzi e mazzi lo abbiamo devastato, io credo che sia il prossimo comunque a passare a miglior vita ci colleghiamo, attenzione Buonasera Oggi per il ciclo Ennio in the movies trasmettiamo il film Terminator contro Ennio La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni Buona visione Grazie Perché Gold e A? Ecco la sigla Ennio, Ennio, Ennio Tua madre Favala via al culo Che Terminator Bello Sono un Terminator Ma che te, che Terminano, che Terminano l'è? Chi sei? Il T-Mille ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei Ma che cosa stai dicendo? Ma che, eh, eh, io non ti conosco, Terminello Che, che Terminello? Sì, po' Perché me l'hai... Hai il bagato numero Hai, hai, hai chiamato Ennio Ma non è il professore Perché me l'hai ordinato? Ma che, ma, che, ma, che l'ho ordinato? Ma non ho ordinato niente Di regola il soggetto copiato viene terminato Oh, c***o, ti capisco? Perché? Perché cosa cerchi? Cosa cerchi? Ho in memoria tutta l'anatomia umana Ma che ti vuoi in memoria, sai? Che cosa vuoi? Ricevo dei segnali che si possono definire dolore. Porto! Ma ti ho sbagliato il numero! Ma io non ti conosco! Che cosa vuoi? Che cosa vuoi da me? Negativo. Ma terminello! 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 Regno! Regno! Colonello! Ma io non ti conosco! Terminello! Ma che cosa hai in mente? Cosa? Cosa? Perché me l'hai ordinato? Ma che cosa hai ordinato? Tua madre è ordinato! Negativo. Bastardo! Negativo. Ma che? Ma come non è negativo, p***o! Madonna! Mi devi stare stare stare! No mi devi stare stare! Perché? Ma porco non è un t***o bastardo! Ma perché continui a te amare? Ma io non conosco nessuno! Andai, mi mangià Franco! Ieri, mi mangià Franco! Che cosa f***o è? Danfranco! Andai, se terminello! Ma chi sei? Chi sei, p***o, madonna! Il mio microprocessore è a rete neurone! Ma che dico a me ne ha detto il culo! Il protestore! Il terminello è tutta la razza! Negativo. Bastardo! Negativo. Bastardo! Non mi devi... Non mi devi far arrabbiare, porco! Il che mille ha la capacità di attuare... Ma che mille euro! Ma che mille euro! Mio euros! Papaci, bastardo! Ma che mille hai ordinato! Ma che quant'è ordinato? Ma che quant'è ordinato? ricevo dei segnali ragazzi è vero i classici dello scorso millennio sono tornati purtroppo è vero ragazzi lo so che sembra un attore